Sopra il logo questa mattina delle telecamere di TV City in via degli incisori, la stradina parallela a via Cesare Battisti a Torre del Greco. Non mancano le segnalazioni dei cittadini sui social per delle situazioni di pericolo non risolte. A seguito di alcuni lavori della team sono evidenti dei cavi elettrici rimasti scoperti, una situazione che mette in allarme i residenti e quanti abitualmente percorrono la zona. Senza contare il fatto che la strada, come del resto molte altre città, a seguito di interventi e lavori si presenta dissestata in più punti. Problematiche che a detta dei cittadini sono state segnalate prontamente alla Polizia Municipale, ma al momento senza soluzione. Tempestivo l'intervento anche del consigliere comunale Luigi Mele per far fronte in tempi brevi alle criticità riscontrate.